L'altro che sto chiamando è più vicino a voi, della scena del messinese, ma si sta imponente in tutta Italia e sta facendo sentire il suo nome un po' in tutta Europa. Signori e signori, fateli sentire forte per il vostro messinese don Gianni Penta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao ragazzi! Gianni Penta! Rappresento di Maiti Sicilio! Secondo, da un'altra parte Siracusa, Siracusa barra Filippine, uno dei più forti popper d'Italia, se non il più forte, signore e signori, my man, Neshi! Un'altra parte Siracusa barra Filippine, uno dei più forti popper d'Italia, uno dei più forti popper d'Italia, uno dei più forti popper d'Italia. Un'altra parte Siracusa barra Filippine, uno dei più forti popper d'Italia, uno dei più forti popper d'Italia, uno dei più forti popper d'Italia, uno dei più forti popper d'Italia. Mister 10! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì sono sempre qua che spaccano signore e signori per l'internazionale Byron Is that fun? Signore e signori signore e signori la nostra giuria e invito tutti i gruppi a presentarsi qui dietro le quinte a questo punto tutti i gruppi a cominciare dai gruppi junior ovviamente